Se io fossi Dante, dedicherei un giorno dell'inferno a tutte le persone che camminano lente per strada perché penso che siano estremamente fastidiose e che facciano perdere un sacco di tempo. La loro pena immagino che possa essere quella di dover correre per sempre ad una velocità molto sostenuta perché, così come in vita camminano lente, ora sarebbero costrette a correre per sempre.